Giuseppe Danna, buongiorno. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare del suo libro uscito recentemente. Si intitola La Divina Commedia, fosse vero. L'ho fatto apposta, ovviamente, l'ho fatto apposta perché Giuseppe Danna non è autore, e mi spiace per lei, della Divina Commedia, ma lei ha fatto un titolo ancora più ambizioso, Crea la tua Divina Commedia. E creare la Divina Commedia a livello personale in questo libro gioco non può che partire, questo gioco, questo viaggio, dall'inferno. Ora, prima di addentrarci in questa sua produzione di scrittura, Giuseppe Danna, nato e cresciuto sotto il sole splendente della Sicilia, si è poi formato come creativo tra i verdi colli della Toscana. E ancora tra i verdi colli, Giuseppe Danna? Purtroppo no, siamo tornati oggi. Essendo estate è anche piacevole tornare sotto il sole splendente della Sicilia. Ho vittuto Firenze per due anni, spero di tornarci a breve, ma al momento no, siamo in Sicilia. Quindi mi immagino che lei abbia scritto questa Divina Commedia, questo suo libro, Crea la tua Divina Commedia, nei verdi colli toscani. I verdi colli toscani hanno ispirato, hanno giustamente ispirato, diciamo che un omaggio, ai miei anni gerentini. E beh, questo non è male. Al momento lei si diverte un mondo a scrivere storie. Perché si diverte così tanto, Giuseppe Danna? Eh, è bello il piacere di creare qualcosa che prima non c'era e poi comincia ad avere anche vita propria, perché poi ognuno lo legge a suo modo. Leggere anche i commenti di chi legge le sue storie, vedere come interpretano i personaggi. È tutto molto divertente. A me piace molto, da lei là a questi giochi. Poi quando scrivono storie per bambini è tutto amplificato. A voglia. I bambini si appassionano in una maniera che gli adulti poi non riescono più a fare. Giuseppe Danna piace ripetere senza che nessuno glielo chieda, che tra grafica e scrittura non c'è grande differenza. Con immagini o parole si tratta pur sempre di raccontare storie. Ma è proprio vero? Eh sì. Alla fine la comunicazione è sempre quello l'obiettivo, raccontare una storia. Lo facciamo con i disegni, lo facciamo con i colori, lo facciamo con le parole. Ma lei come lavoro fa il grafico, Giuseppe Danna? Diciamo che io sono un grafico prestato alla scrittura. Io ho una formazione da grafico e lavoro come grafico, ma è da due anni che mi dedico anche alla scrittura di romanzi, sia come autore sia anche come ghostwriter. Sempre prodotti per bambini e ragazzi, parliamo sempre dai sette anni in su circa. Giuseppe Danna è autore di questo libro pubblicato da Gallucci e questo libro nasce da un'idea di Pier Domenico Baccalario. Sì, grande autore per bambini e ragazzi che un giorno mi ha chiamato con questa idea. Ma cosa ne pensi se scriviamo la Divina Commedia per bambini, se spieghiamo ai bambini come funziona l'inferno di Dante? È una bella sfida che ho accettato. È una bella sfida anche complessa perché raccontare un libro così difficile è nello stesso tempo anche semplice perché poi è un viaggio all'interno dell'inferno del Purgatorio del Paradiso, però dedicato ai bambini con uno sguardo bambino. E quindi cosa fa Giuseppe Danna? Fa un libro gioco perché con i bambini si deve giustamente giocare e giocando si impara. E il viaggio che cominciano questi bambini comincia proprio con queste parole. Nel mezzo del cammin della tua vita ti sei ritrovato con questo libro scuro e con la penna tua ormai smarrita. Ma non scoraggiarti e tieni duro che se quella penna riprendi fra le dita ci sarà da divertirsi, te l'assicura. Lei fa concorrenza a Dante Alighieri nel mezzo del cammin della tua vita Giuseppe Danna. Ebbene sì, ci poniamo traguardi alti. Traguardi alti perché lei vuole più che essere Dante, lei vuole essere il Virgilio nei confronti dei bambini. Sì, infatti il libro è un finto viaggio che il bambino fa con Virgilio accanto, quindi c'è tra Virgilio a guidarlo pagina dopo pagina, cerchio dopo cerchio. E come spiegare ai bambini di Giuseppe Danna, la Divina Commedia, Dante Alighieri e Virgilio? Ecco, come spiegare la figura di Virgilio a un bambino? Alla fine l'importante è fare sempre un linguaggio semplice, ma non troppo, nel senso che i bambini comunque non sono stupidi, dobbiamo sempre ricordarlo. Ma voglio altro che... Soprattutto oggi, come molto, io ho ben sei nipoti e so bene quanto fanno essere intelligenti i bambini. E quindi basta scegliere le parole giuste, basta anche conoscere, studiare un po' la Divina Commedia per riuscire a, diciamo, edulcolarla un minimo, perché comunque ha immagini dell'inferno di Dante, ha immagini molto forti, quindi vanno un po' smustate. E poi ricorrendo anche a quell'immaginario un po' horror da bambini che piace ai demonietti, le fiamme, la puzza di Zolfo, quelle immagini che comunque i bambini tramite i cartoni animati o racconti già un po' conoscono e possono, su cui possono orientarsi, ecco appunto. E poi il linguaggio, il libro è tutto in... che si rivolge direttamente al lettore, quindi lo coinvolge in primis, è un po' come se parlasse con Virgilio, il bambino. E quindi ha questa guida di carta che lo vince da andare avanti a superare gli obiettivi e le variazioni, come diciamo, prima un libro gioco, quindi non si legge soltanto. Si disegna, si taglia, si incolla, si piega. Ci sono molte attività. Abbiamo cercato di essere il più vario possibile in questo. E certo, perché per coinvolgere un bambino a fargli amare la Divina Commedia potrebbe anche ritagliare e distruggere questo libro Crea la tua Divina Commedia pur di raggiungere il risultato e imparare ad amare la Divina Commedia. Ma che odore ha l'inferno? Eh, quello dovranno scoprire le bambine e dovranno deciderlo loro. Possono scegliere fino a tre puzze che gli ricordino l'inferno. Io ho suggerito le uova marce, però non sono sicuro. Oppure quello di Cavolo? Anche, è quello che ha il broccolo. Eh, certo. E questo libro ci fa entrare, poi è inutile che noi adulti facciamo tanto i sapienti presuntuosi, facciamo finta di sapere tutto, perché io in questo libro, che si sviluppa per circa un centinaio di pagine, o poco più, ho imparato anche delle cose, ho imparato o comunque cose che io forse non ho mai studiato nella mia poco brillante carriera scolastica, oppure ho dimenticato, per esempio il girone degli accidiosi, no? Minosse, l'antinferno, ecco tutte cose che noi adulti... Io mi sono stupito di ricordare Ulisse che è all'inferno, una figura che solitamente ricordiamo come positiva, e lì nasce anche la costa dell'adulto di riscoprire perché Ulisse era nell'inferno. E allora perché Ulisse è stato messo dal buon Dante Alighieri nell'inferno? Lo vogliamo riscoprire? Eh, perché è un grande uomo, un grande eroe, ma era tecnicamente un frodo lento, noi lo ricordiamo soprattutto per l'inganno del cavallo di Troia, e poi con la sua lingua è anche riuscito a convincere i marinai ad andare oltre quelle che erano le leggi degli dèi del tempo. Quindi sì, un eroe, ma che ha fatto la sua fortuna grazie alle mentogne, agli inganni. E Dante è quello di un trantigia, quindi lo colloca nel girone dei fraudolenti. Eh, Dante è una persona rigida, per cui lo pone nei girone dei fraudolenti e con giusta ragione, perché poi Ulisse è un personaggio singolare e plurale nello stesso tempo, quindi gli possiamo perdonare anche questo, data la sua grandezza, dato il suo sguardo veramente di straordinario conoscitore. Siamo alla prima puntata di questo libro, Crea la tua divina commedia, l'inferno, quindi prossimamente Giuseppe D'Anna o ha già lavorato al purgatorio? Ah, quello è ancora in forza, lo speriamo, ma quello dipenderà da tante cose. Come sai nel meraviglioso mondo dell'editoria, non è solo l'autore a decidere, quindi è un discorso che faremo anche con l'editore, vedremo anche il riscontro del libro. E i nipoti che cosa ne dicono, visto che abbiamo sentito che Giuseppe D'Anna diversi nipoti, quindi sono loro i primi giudici, i bambini? Sì, sì, sono delle cavie, piccole cavie per lo dio scrittore. E che cosa hanno detto di questo libro? Hai già stato sottoposto? Sì, ai più grandi celli sì, perché alcuni sono ancora troppo piccoli, ma a chi è nell'età giusta, a chi ha già sei, sette anni, hanno provato, hanno ritagliato, hanno incollato, hanno fatto a gara. E quindi da questo libro nascono altri libri, Giuseppe D'Anna, come giusto che sia? Sì, lo scopo è che ognuno abbia la sua divina commedia personale, unica e inimitabile. Lei è autore dei testi e autore anche dei disegni, ovviamente. Sì, delle illustrazioni, tutte le illustrazioni che vede e anche l'impaginazione, perché è un libro comunque che gioca molto col testo, gioca molto con le cornici, è molto visivo, diciamo, non c'è solo la parte sessuale. Certo, certo, molto visivo. Io ho detto disegni e lei invece ha detto illustrazioni, che differenza c'è fra le due parole? È importante sottolineare queste cose. Oddio, quello è il grafico che è in me che prende sopravvento nell'usare la terminologia, ma alla fine l'illustrazione è più che altro, diciamo, che si concentra più sul focus, sul target, su quello che è il progetto. Mentre il disegno è quello che fai, diciamo, per diletto, non ponendo di troppi problemi, l'illustrazione è più mirata, diciamola così. Quindi devi tenere presente il tipo di lettore che andrai a colpire, il tipo di libro che stai facendo e quindi devi anche fare in modo che le varie illustrazioni poi siano tutte tra di loro concordanti, quindi per creare un piccolo mondo, anche in questo caso. Quindi i mondi non ti creano solo con le parole, ma anche con le illustrazioni. Partendo dalla immaginazione, ovviamente, crea la tua divina commedia, il libro gioco che abbiamo raccontato, la prima puntata è l'Inferno. Speriamo di vedere, di leggere e giocare con il Purgatorio e il Paradiso. Tutto questo è pubblicato da Gallucci e l'autore Giuseppe Danna che è qui con noi, ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Giuseppe Danna? Ah, il libro sul comodino che sto leggendo? Ah. Ah, in questo momento io sto leggendo il libro delle cose nascoste di Francesco Dimitri, un autore italiano molto talentuoso, molto bravo. Il libro delle cose nascoste è in 30 secondi per i nostri ascoltatori. Che cosa racconta questo libro? Pubblicato da Longanesi, vorrei ricordare. Da Longanesi, sì. Allora, racconta di quattro amici che per un patto fatto da giovani tornano all'età di 30, 35 anni, nella loro Puglia, nella loro amata e odita Puglia. Quindi c'è l'apporto di amore e odio con la terra natia, ma c'è anche il mistero di un amico che si sembra invischiato in situazioni rosche di occultismo, di magia, dove finiscono i santi e comincia qualcosa di un potere più oscuro. Ed è tutto un testo giocato sul dubbio, su ciò che è vero e ciò che non lo è, su credenze popolari e credenze ancora più antiche, forse. Grazie, grazie davvero. Lo consiglio molto. Buona giornata, a presto Giuseppe Danna. Buona giornata.